ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza il filmato mostra quest'uomo mentre attraversa un corridoio poco illuminato arrivato in fondo al corridoio un'entità oscura si materializza davanti all'uomo l'ombra aggredisce l'uomo gettandolo a terra per poi trascinarlo per il corridoio il filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento questa foto è stata scattata da una donna di nome sara durante una riunione di famiglia nella cucina la donna decide di immortalare questo momento scattando questa foto in modo simpatico per avere un piccolo ricordo di quel momento rivedendo la foto la donna nota un particolare davvero spaventoso sembra che sulla foto sia rimasta impressa la figura di uno spirito difficile pensare anche che sia un'anomalia della telecamera dato che è talmente evidente che c'è un qualcosa di strano proprio vicino a quelle persone il prossimo filmato mostra l'apparizione di un'entità oscura mentre si materializza in fondo al corridoio della casa di quest'uomo il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento 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 questo filmato è stato catturato da una telecamera di sicurezza installata in un edificio questa telecamera è dotata di un sensore di movimento ciò significa che qualsiasi cosa gli passi davanti lei la segue le immagini mostrano la telecamera che incomincia a spostarsi da una parte all'altra come se avesse captato qualcosa in un primo momento non si nota nulla quando ad un certo punto qualcosa incomincia a manifestarsi il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento a a Questa foto è stata scattata dal titolare di un'azienda. La foto mostra l'apparizione di questo spirito all'interno della recinzione di questa azienda. Lo spirito si mostra con questa veste bianca e sembra che abbia un'aria davvero spaisata, come se non sapesse dove andare. Il video seguente è stato catturato da alcuni esploratori urbani in un cimitero di notte. Il filmato mostra l'apparizione di alcuni spiriti che si manifestano nel cimitero muovendosi da una parte all'altra. Il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento. Si è un nino, güi! A su nino, güi! A su nino, güi! Andalo a saber! Tira, tira, espérame! E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!